a modena liberata dai suoi partigiani domenica 22 aprile 1945 la sera del 23 aprile fu data notizia che era stato trovato un partigiano ucciso sconosciuto a tutti il quale aveva in tasca soltanto un pezzo di pane la sua fotografia fu esposta per alcuni giorni sotto il portico del collegio nella località più centrale e più frequentata della città poi non se ne seppe più nulla questa poesia di un anonimo appunto ispirata a questo episodio comparve in quei giorni accanto alla fotografia dello sconosciuto dalle contese montagne dalla ribelle pianura con in tasca un pezzo di pane a tracolla il vecchio moschetto a liberarci tu sei venuto partigiano sconosciuto quanto ignoto protettore non t'avevamo invocato e nei giorni del terrore sotto il gioco maledetto solo appoggio era il tuo aiuto partigiano sconosciuto ma l'odio incontro ti mosse i di della lotta aperta e camicia e bandiera rosse ti diventarono sul petto il tuo cuore si fermò muto artigiano sconosciuto e in quel terribile schianto che barcollavi e morivi o nostro fratello santo santo figlio nostro benedetto il tuo volto l'abbiamo saputo partigiano sconosciuto grazie 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 grazie